Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ripartiamo, riparte il canale perché rinizia sostanzialmente la stagione del nostro Ascoli Calcio. Siamo qui il giorno dopo la presentazione ufficiale di Mr. Bucchi, cambio della guardia in società. Tantissimi ringraziamenti al Mr. Sottilla per quello che è riuscito a fare in questi due anni. Lo ricorderò sempre, a lui aveva dato il merito di averci teso la mano quando tutto sembrava impossibile, quando tutto era buio e ci ha riportato in alto a sognare qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava solo utopia. Quindi grazie Mr. Sottilla e in bocca al lupo per la tua prima esperienza in Serie A con la Maglia dell'Udinese. Quello però del passato, dobbiamo concentrarci sul presente e nel presente c'è Christian Bucchi. Un giocatore che conosce la piazza, ha già avuto due parentesi bianconere, entrambe piuttosto positive da giocatore e questa è la prima da allenatore. Sicuramente c'è stata qualche polemica che non ho proprio apprezzato perché è vero che il profilo di Bucchi possa non sembrare appetibile, possa non sembrare adatto per la piazza però i numeri ci vengono incontro e ci dimostrano proprio tutto il contrario. Un allenatore che in Serie B vanta un terzo posto con il Benevento, ne vanta un quarto con il Perugia. Insomma, una persona che ha esperienza con la piazza, con la categoria, sa quello che deve fare, sa cosa in mente di fare e come farlo al meglio. Sono pienamente fiducioso con la scelta della società, credo che possa essere un profilo che ci toglierà grandi soddisfazioni. Ieri ho recuperato la sua intervista, la sua conferenza di presentazione parole sagge di un uomo che comunque ha le idee chiare, sa quello che vuole fare. Mi è sembrato di capire che ci sarà comunque un calcio propositivo mi è sembrato di capire anche che Ciaju, nonostante non abbia ancora ufficializzato la propria permanenza in Ascoli dovrebbe essere al centro del suo progetto. Lì davanti ha parlato anche di Dionisi dicendo quanto il capitano sia importante e quanto dovrà aiutare la squadra e questo sicuramente sappiamo che è un fattore in più perché Dionisi è il giocatore che magari nella nostra rosa più conosce la piazza, più conosce la categoria e ha bisogno di dare una mano. Credo che ci sarà sicuramente un aiuto anche da Bellucci qualora dovesse andare in porto il suo riscatto. Insomma, servirà l'aiuto davvero di tutti per quest'Ascoli che può sembrare depotenziato dopo aver perso un allenatore che ha dato tanto ma sicuramente non lo è e dimostrerà di non essere così. Ci aspettiamo adesso nuovi aggiornamenti nuove notizie. A luglio partirà poi il ritiro e lì ci saranno altri contenuti altre cose da dire. Quindi nel frattempo questo video finisce qui io vi invito a lasciare un mi piace, a commentare per farmi sapere le vostre sensazioni su Bucchi, condividere il video mi raccomando. Noi ci vediamo la prossima volta. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Ciao a tutti e forza picchio!